Buonasera, buonasera a tutti voi! Ciao, ciao Christopher! Buonasera, mi chiamo Christopher Castellini, ho 25 anni, vengo da un piccolo paese in provincia di Brescia e questa sera sono qui perché vorrei parlare in qualche modo delle nostre scelte perché il tema di fondo è, sono liberi le nostre scelte o non sono libere? potrebbero essere sì libere ma fare nello stesso momento parte di un disegno più grande per esplorare questa tematica questa sera vorrei chiedere l'aiuto a voi giudici speravamo di essere coinvolti, davvero, giuro questo mi fa molto piacere perché ho portato appunto per voi quattro buste chiuse e sicillate su queste buste ora io andrò a scrivere una previsione di una vostra futura scelta che farete fra pochi istanti in realtà vi dico già che sarà un numero fra uno e quattro intanto non pensateci però voglio iniziare da te, Rudy sì allora, semplicemente c'è lo zero? no, non c'è lo zero, non c'è lo zero, abbiamo uno, due, tre e quattro Maria, una domanda semplicemente di solito in aereo preferisci il posto corridoio o finestrino? finestrino finestrino, ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti